Due esplosioni, provocate forse da kamikaze, hanno colpito la comunità sciita di Barachinar, nel nord-ovest del Pakistan, causando una quarantina di morti e oltre 100 feriti. Il primo scoppio è avvenuto nel principale mercato della città, affollato di famiglie per gli acquisti del mese sacro del Ramadan. Il secondo si è verificato dopo quattro minuti a poca distanza. Il doppio attentato non è stato per ora rivendicato, ma si sospetta che sia opera di uno dei numerosi gruppi estremisti islamici attivi lungo il confine con l'Afghanistan. In giornata, nella stessa regione di Kurram, due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno rudimentale. La zona è considerata un crocevia di taliban e militanti di Al-Qaeda.